Un treno ad alta velocità si è scontrato con un autobus ribaltato sulle rotaie in seguito ad un incidente. Sì signore! Sì signore! Affermativo! Destinazione raggiunta! Affermativo! Destinazione raggiunta! Destinazione raggiunta! Ascolto! Destinazione raggiunta! Destinazione raggiunta! Arrivo! Dannazione! Ascolto! M iscrivetevi già! M iscrivetevi già! M iscrivetevi già! M iscrivetevi già! fatto! Sì? Arriviamo! Sì? Sì signore! Ascobito! Consideralo fatto! Bene! Che succede? Arrivo! Ci sono! Sì? Capito! Arrivo! Andiamo! Ascolto! Ascolto! Sì signore! Affermativo! Ascolto! Arriviamo! 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 Ascolto! Ci sono! Ascolto! Sì? Ricevuto! Arrivo! Sì? Subito signore! Sì? Arriviamo! Ascolto! Che succede? Andiamo! Che succede? Arriviamo! Ci sono! Ascolto! Che succede? Ascolto! Sotto! Bene! Che succede? Ci sono! Ascolto! Subito signore! Che succede? Che succede? Arriviamo! Arrivo! Ascolto! Ci sono! Ci sono! Ascolto! Arriviamo! Arrivo! Ricevuto! Ascolto! Andiamo! Ascolto! Consideralo fatto! Ascolto! Arriviamo! Ascolto! Arriviamo! Consideralo fatto! Ascolto! Arriviamo! Che succede? Ci sono! Consideralo fatto! Ascolto! Arrivo! Ascolto! Ascolto! Subito signore! Ricevuto! Ricevuto! Fatto! Ascolto! Ci sono! Devi salvare i passeggeri del vagone che si trova sul ponte prima che questo crolli! Ce l'ho! Hei! Beggi! Che succede? Che scelto? Chi? Che terminano? Che capitano! Attaclio! Che! che succede? arrivo, mi sono, arrivo, che succede? bene, che succede? arrivo, che succede? ci sono, ascolto, arrivo, che succede? arrivo, arriviamo, ascolto, si, affermativo, arrivo, agli ordini, arrivo, lo dite non l'ho fatto, ascolto, 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 subito signore, ascolto, arriviamo, sì, arrivo, ce l'ho, ascolto, arrivo, sì, andiamo, ascolto, arrivi, arriviamo, 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 che succede? arriviamo, 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 c'è una persona aggrappata alle rotaie del ponte ferroviario, soccorrilo prima che il ponte ceda, ascolto, arriviamo, arriviamo, che succede? che succede? che succede? che succede? rubito signore? sì, arriviamo, ci sono arrivo arrivo sì bene arriviamo sì muovito signore che succede? arrivo sì che succede? ci sono sì ricevuto che succede? arrivo sì arriviamo arrivo bene che succede? arrivo sì arriviamo 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 arrivo ascolto non importa non importa ascolto ci sono arrivo che succede? che succede? arriviamo ascolto subito signore arrivo arrivo bene ascolto arrivo arriviamo arriviamo che succede? che succede? che succede? arrivo arrivo sì arrivo arriviamo andiamo arriviamo arrivo arrivo ascolto arrivo arrivo Arriviamo! Che succede? Arriviamo! Ascolto! Arrivo! Ci sono! Si! Che succede? Arriviamo! Arrivo! Che succede? Arriviamo! Ascolto! Arrivo! Arriviamo! Sì signore! Ascolto! Arrivo! Che succede? Arrivo! Arriviamo! Arriviamo! Subito! Sì signore! Che succede? Che succede? Arriviamo! Ascolto! Che succede? Arriviamo! Ascolto! 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 Che succede? Arrivo! Ci sono! Arriviamo! Arriviamo! Che succede? Arriviamo! Che succede? Arriviamo! Non è raggiunto! Che succede? Arriviamo! Che succede? Arriviamo! Subito! Subito signore! Arriviamo! Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Ascolto! Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? arrivo che succede? arriviamo ascolto arrivo arriviamo arriviamo ben fatto hai agito con disinvoltura in questa missione risolvendo i problemi con determinazione ma non c'è tempo per rilassarsi si può sempre migliorare